Il risultato concreto di tanto dibattere resta ancora un po' misterioso, ma quello politico e l'eventuale conseguente sprono a livello nazionale, quelli sì, sono delle certezze. Il registro delle coppie di fatto arriva tra i banchi del Consiglio Comunale di Milano dopo le polemiche politiche, le accuse delle opposizioni e in ultimo la posizione dubbiosa persino della Curia di Milano, che non fa altro che sottolineare altri dubbi, quelli dei cattolici in consiglio, sia di maggioranza che di opposizione. Io credo che così come rispetto alle decisioni della Curia in campo religioso, la Curia debba rispettare le decisioni del Consiglio Comunale, che è un'istituzione della città ma che parla a tutti i cittadini, così come del resto della Curia. Sono temi diversi, ognuno col proprio ruolo, ognuno nel rispetto delle idee e delle posizioni dell'altro. Mare Elisa D'Amico ha contribuito alla stesura del testo e nelle sue parole emerge il significato più che altro simbolico del provvedimento. L'intervento è importante, ha un valore simbolico, insomma politico, importante, però non c'entra con quello, cioè non è una legge, non interferisce con i diritti e i doveri, è un provvedimento amministrativo, i comuni lo fanno da un sacco di anni e quindi in quest'ottica noi cerchiamo di operare. Il PDL è diviso, quattro consiglieri si dicono pronti a votare a favore, se nel testo si distinguerà bene tra famiglia e unioni. Il capogruppo azzurro, Masseroli invece, di altro avviso. Libertà di voto, tutti quanti però nel mio partito abbiamo convenuto che ci debba essere distinzione tra il matrimonio e l'unione civile e ci debba essere assolutamente una grande attenzione a far sì che non si unifichino i concetti fino a prevedere un'eventuale, quindi per noi a non prevedere un'eventuale possibilità di adozione di figli. L'Archigay, dopo tanti rimandi e ritardi per ora, mantiene un atteggiamento di attesa. È bizzarro che bisogna aspettare un anno e mezzo quando ha insediato Pisapia per un registro che gli altri comuni, come Napoli, hanno approvato con molta più velocità.